Io credo che bisogna denunciare con forza quanto sta succedendo, bisogna tutelare le scuole, bisogna tutelare l'informazione, bisogna tutelare le istituzioni perché a loro volta sono dei soggetti importanti che tutelano i cittadini. Quindi il rispetto e la toleranza finisce nel momento in cui gli altri sono intolleranti e quindi noi dobbiamo a quel punto diventare veramente rigidi nell'affermare la correttezza delle campagne vaccinali, l'impostazione corretta che sta facendo il governo. Siamo in pandemia, solamente i vaccini e i farmaci e un sistema sanitario può salvare questa nostra generazione da quello che sarebbe stata una catastrofe. Basterebbe vedere quei paesi nel mondo dove non ci sono stati vaccini o dove non ci sono stati delle misure di contenimento del virus, quante persone sono morti, quanti bambini sono morti e quindi questo è l'elemento più chiaro e evidente che le misure che abbiamo adottato sono corrette. A mio avviso anche a livello europeo, se pensiamo a quello che ha fatto l'Italia e quello che hanno fatto la Toscana dopo che abbiamo modificato la nostra azione per effetto anche delle nostre proposte quanto è migliorata la condizione e la nostra vita è tornata ad essere tendenzialmente normale e credo che su questo livello vada consolidato, bisogna condannare tutti coloro che ovviamente attaccano coloro che fanno informazione, che rispettano le regole e vanno denunciati e mi auguro una presa di posizione netta e ferma non soltanto di tutte le forze politiche ma anche delle forze dell'ordine che possono poi anche condannare e dare delle pene esemplari a tutti coloro che vorrebbero osteggiare questa nostra attività a favore della salute dei cittadini.